Era pronto a dare forfè per infortunio, ma pochi istanti prima che abbandonasse il terreno di gioco, Facundo Orchisa diventa l'uomo copertina portando in dote tre punti di vitale importanza che rimettono prepotentemente in corsa il Biceglie per la permanenza in Serie D. Battuto è il Molfetto che abbandona così le residue speranze playoff, restando però nella parte sinistra della classifica. Al Gustavo Ventura è tempo di derby, un derby che da queste parti mancava addirittura dal lontano 2010. Le formazioni. Tisci opta per tre cambi rispetto all'undici uscito sconfitto al fotofinish in quel di Fasano. Tornano Capitan Coletti in cabina di regia, Orchisa in difesa e Orchico in attacco accanto al solito Acosta. Bartoli dispone il Molfetto con il consueto 3-4-1-2. Gionai scala sulla tre quarti pronto a rifornire Kordic ed il rientrante Pozzebon. Sull'esterno al posto dello squalificato Giambuzzi ecco Dubal. Avvio contratto da ambo le parti, tanti duelli a centrocampo, ma gara condizionata dalla forte pioggia e da un manto erboso non in perfette condizioni. Per vivere la prima emozione dobbiamo giungere al ventiduesimo. Pozzebon vince un paio di limpagli al limite dell'aria ma la sua conclusione non trova fortuna. Questo difatti sarà l'unico squillo bianco-rosso, con il Biceglie che decide di prendersi con forza la partita. Al venticinquesimo conclusione improvvisa di Isco, una deviazione rende insidiosa la traiettoria ma Viola è super nel mettere in angolo. Al ventisei l'episodio che cambia la partita. Urquiza accusa un problema muscolare ma resta in campo e su un batti e ribatti in area di rigore galleggia sul filo dell'offside e con un prelibato lob scavalca Viola per il vantaggio stellato. L'argentino vorrebbe restare in campo ma il cambio ormai è pronto. Dentro li goli al suo posto con il difensore che viene però omaggiato dal caloroso pubblico del Ventura. Il Biceglie va a 1000 e a 120 secondi dal duplice fischio Acosta va vicino al gol della domenica con una gran conclusione ma Viola compie un altro prodigio e tocca la sfera quel tanto che basta per metterla in angolo. Gesto tecnico non condiviso però dal direttore di gara Ianello che assegna semplice rinvio dal fondo. Nella ripresa i nerazzurri non si disuniscono e continuano a spingere senza timori reverenziali. Al 64 la punizione velenosa di Coletti ma Marino in spaccata manca per centimetri l'appuntamento con il 2 a 0. La grossa chance arriva al 71esimo. Il neo entrato Crisci ruba palla sull'esterno e serve al bacio Urquico che manda incredibilmente alle stelle un rigore in movimento. Bartoli getta nella mischia Guadalupi, Demoleon e Cardamone per scuotere i suoi. Tisci risponde con San Domenico e Camporeale per Acosta e Urquicio per un attacco più veloce ed imprevedibile. Proprio il numero 10 inizia un contenzioso con il portiere ospite. All'87 prima ci prova col Mancino ma Viola respinge. Poi nel primo minuto di recupero ancora San Domenico sgasa tra le maglie bianco-rosse e calcia ma l'estremo difensore molfettese si dimostra ancora di gran lunga il migliore dei suoi. L'ultimo sussulto lo lega la Crisci che spreca però dal limite ma andando di poco fuori. Ma al pubblico del Ventura va bene così. I ragazzi di Tisci si prendono il derby e reagiscono in grande stile alla beffa di Fasano. Altri due punti recuperati al San Giorgio. Ora la salvezza non è più una mission impossible. Di vitale importanza sarà l'altro derby di domenica prossima in quel di Altamura. Il Molfette invece saluterà il pubblico del Poli ospitando la Casertana per blindare la salvezza e suggellare una stagione più che positiva.